Buonasera a tutti, grazie della opportunità di confrontarci con i nostri studenti e spero che questa lezione, che come potete vedere, come è stata annunciata dalla prima slide intitolata Gio Ponti l'Arc italiano sia di vostro gradimento. Questo riferimento a questa parola l'Arc italiano, forse qualcuno lo ricorderà, è una espressione che era stata usata da Curzio Malaparte e l'ho voluta riprendere perché il tema, il concept di questa lettura molto abbreviata che io faccio di Gio Ponti, è proprio incentrato sul tema della italianità, quindi Ponti come un condensato dell'italianità. In una sua nota autobiografica che non è mai stata pubblicata, che sta in un datilo scritto nelle carte dell'archivio che Ponti aveva dettato, diciamo, negli ultimi anni della sua vita, Ponti muore nel 1979, questa è stata scritta nel 72-73 e lui stesso si definisce così. Gio Ponti, nato a Milano nel 1891, è prima di tutto un italiano, poi un lombardo, poi un milanese e poi si autodescrive un uomo ilare senza ozzi che scrive, disegna, costruisce viaggi, insomma che ama vivere. Ecco credo che in queste parole si nasconda un po' come dire l'enigma del successo di Gio Ponti, dello straordinario successo che Ponti soprattutto ha raggiunto in quest'ultimo decennio, testimoniato da due grandi mostre che si tenute l'altro anno, nel 2018, a Almada, Louvre di Parigi, Tuponti, Tuponti e l'anno scorso, ma ancora aperta fino al 27 settembre di questo sciagurato 2020, al Maxi di Roma, che si chiama Gio Ponti, amare l'architettura. Quindi spero che magari la visione di queste slide possa anche, come dire, suscitare in qualcuno di voi il desiderio di fare una scappata a Roma, che in ogni caso vale sempre la pena, e di andare al Maxi a vedere la Roma, la mostra che fra l'altro ha anche un allestimento che a uno studente di architettura potrebbe molto piacere. Sempre continuando in questa, come lo dice, Quick Self-Biography, o Gio Ponti Story, quindi sono parole che io sto prendendo da lui, lui dice Beginning November 18, 1891, quindi questo, diciamo, è un dato, come dire, oggettivo, era nato il 18 novembre del 1891 e dice Probabile fine, e lo scrivi in italiano, entro il 1981. Quindi Ponti, diciamo, ha mancato la sua profezia per pochissimo tempo, e l'aveva scritto nel 1977. Qui vedete due foto, una di Ponti, bambinetto, quindi all'età, diciamo, di pochissimi anni, come si vede anche dall'abbigliamento, che è caratteristico di quel tempo, e invece nella seconda slide vediamo Ponti, ormai solo, la amata moglie Giulia Vimercati era venuta a mancare, nella sua casa di Via D'Ezza, con un nipotino, in questa casa bellissima che più tardi vedremo dettagliatamente, circondato dalle opere pittoriche della sua maturità. Quindi un Ponti che è tornato, diciamo, bambino, è tornato al beginning, agli inizi. C'è un'altra frase bellissima che Ponti adopera per definire se stesso e che proprio, come dire, traduce in maniera immediata il suo inguaribile ottimismo, un ottimismo non sciocco, un ottimismo progettuale, è questa, la mia vita, una vita perseguitata dalla fortuna. Quindi è un'espressione veramente, diciamo, che traduce tutto l'attivismo di Gio Ponti, questa instancabile attività documentata dal fatto che, appunto, come dice la prima fortuna, i miei hobby è tutto quello che faccio. È stato detto, giustamente, che la creatività di Ponti non può essere limitata al campo solo dell'architettura o soltanto a quello del design o soltanto ad alcuni materiali, ma è un'attività a 360 gradi, come si dice con un'espressione comune, ma forse abusata. Ci sono anche parti di queste attività che non sono documentate qui, per esempio la sua attività di scenografo, di disegnatore di costumi e anche di autore di testi teatrali. L'anno scorso ne è stato rappresentato uno, il coro, proprio qui a Milano, da un gruppo di giovani studenti dell'Accademia. La sua attività, come vedete, quindi comprende anche, c'è in atto un'immagine che fa vedere una copertina della rivista Stile, da lui fondata dopo l'uscita da Domus, che ci rimanda a un aspetto dell'attività di Ponti, che è stato fondamentale non soltanto per lui, ma soprattutto per la costruzione di un pensiero, direi quasi mitico, intorno al concetto dell'italianità che si fatica, diciamo, a tradurre nella abusata formula che si usa oggi del made in Italy. In realtà l'italianità per lui è molto più del made in Italy, ed è l'attività della divulgazione, cioè della costruzione di un pensiero, della condivisione di un pensiero, di un sentimento, attraverso l'oporosità culturale, intellettuale e il mondo delle riviste. La seconda fortuna per il giovanissimo architetto che si era laureato, diciamo, appena uscito dalla Prima Guerra Mondiale, dove aveva prestato la sua attività, il suo servizio militare, la seconda fortuna fu quella di essersi imbattuto nella Ricciarginori, una illustre, ma un po', come dire, appassita signora della industria del campo delle arti decorative e di averla saputo rivoluzionare dall'interno. Quindi l'incontro con la Ricciarginori è il grande lavoro che Ponti, come art director della Ricciarginori, ha compiuto rinnovandone completamente l'iconografia, quindi diciamo abbandonando la tradizione, anche se in maniera delicata e discreta e traghettandole immediatamente nel clima degli anni venti, nel clima fervente degli anni venti europeo. La terza fortuna per Ponti è stato l'incontro con Gianni Mazzocchi, l'editore Gianni Mazzocchi e la nascita di Domus. Ponti aveva creato la rivista nel 1928 e su impulso anche sia di Ugo Ietti, che allora era direttore del Corriere della Sera, sia anche di un illustre e operoso padre Barnabita, padre Zaccaria, che era uno, degli interpreti di quell'attivismo religioso tipicamente lombardo, che sentiva la necessità di proiettare lo spirito religioso nella fattività delle opere, nel fare, nel promuovere iniziative, nel cercare di, come dire, coinvolgere nel mondo spirituale della religione tutti quei ceti, sia i ceti operai che i ceti produttivi, i ceti delle professioni, e quindi questo padre Severia diede a Ponti, come dire, l'impulso di dire facciamo una rivista per la cultura della casa. Infatti, come vedete, la rivista si chiama Domus, l'arte nella casa. Come sapete, nello stesso anno nasce Casabella, che sarà, diciamo, un po' la cugina rivale di Domus, ma è significativo che, mentre nella Casa Bella, che si chiamava appunto in parole staccate Casa Bella, rimandava ad un mondo ancora, come dire, attardato in certe leziosità decorative degli anni venti, Ponti scelga un nome latino, Domus. Probabilmente questo deve essere stato uno degli apporti di padre Zaccaria e questo concetto della Domus si esprimerà appieno, soprattutto nella sua idea, perché non è una teoria, ma è un sentimento, che lui volle intitolare appunto la Casa dell'Italiana. Qui c'è un piccolo volumetto, la Casa dell'Italiana, dell'edizione Domus uscita nel 1933, che raccoglieva tutti gli editoriali che Ponti aveva scritto dal 28 al 33 e il primo editoriale si intitolava proprio la Casa dell'Italiana ed era il programma di una ricerca che voleva coniugare la modernità, quella modernità che Ponti aveva respirato all'estero, soprattutto a Parigi, è stato un grande ammiratore di Le Corbusier, ma allo stesso tempo voleva coniugare in una versione che fosse non un'imitazione d'oltre altro, ma fosse italiana. Infatti uno dei suoi motti più famosi era basta essere italiani, quindi diceva gli italiani non si devono sforzare di essere artisti, di essere creatori, basta essere se stessi, cioè italiani. Vale a dire che la parola Italia o l'aggettivo all'italiana conteneva in sé, come dire, il DNA dell'essere creativo. Un italiano non può non essere creativo. E infatti le sue prime, diciamo, i suoi primi esordi nel campo della edilizia a Milano avvengono proprio nel segno delle Domus. Domus aveva chiamato la sua rivista, Domus, lui chiamerà, diciamo, fino alla metà degli anni trenta, i tentativi di costruire delle abitazioni moderne seriali, diciamo, destinate principalmente in questo caso al ceto medio, nella città di Milano. Il primo gruppo è questo delle case in via De Togni, si chiamano Domus Carola, Domus Faust e Domus Fiulia e che mostrano un'altra caratteristica importantissima di Ponti, il suo abbinare all'idea di casa l'idea di donna. Ci sono delle pagine, delle righe, delle pagine molto belle in Amate l'architettura, in cui lui dice che le donne sono degli architetti naturali e che gli architetti si dovrebbero a volte zittire, per ascoltare il buon senso e soprattutto, diciamo, il rapporto, come dire, viscerale immediato con il corpo che è tipico delle donne e che nessun uomo potrà mai avere. Quindi le Domus, che sono l'esperimento, diciamo, di abitazioni di serie e su imitazione, un po' sulla scia delle Siedlungen tedesche, cioè di quelle casse che formano dei quartieri, vennero, diciamo, scelte da Ponti come il campo primario entro il quale sperimentare questa sua visione della casa l'italiana. E una delle espressioni che lui utilizza nel suo editoriale dice, nella casa l'italiana non vi è grande distinzione tra esterno ed interno. È un tema bellissimo di cui abbiamo sperimentato la validità e la verità, soprattutto in questi, in questi terribili mesi della pandemia, siamo tutti rimasti chiusi in casa, erano usciti fuori sui balconi e Ponti è stato uno dei primi a sostenere che da noi l'architettura di fuori penetra nell'interno, come si vede appunto in questa immagine, che non poteva essere immaginato una casa, un appartamento che non avesse, lui dice, almeno un balcone, un piccolo terrazzino dove coltivare dei fiori, dove godere, dice, di quel clima che la natura, in maniera molto generosa e molto benigna, ha voluto dotare l'Italia. Quindi dice esplicitamente la casa l'italiana non è la macchina a biter, dice citando le corbusier, e non è neanche una grotta difensiva, come immaginano le popolazioni del nord, ma deve essere invece una casa aperta all'esterno. Se vediamo questa piccola facciata della Don Rossiulia, vedete che è quasi tutta occupata da sistemi di finestre e da sistemi di balconi. In una casa che credo i studenti del Politecnico, almeno i residenti, dovrebbero conoscere bene perché adesso è diventato uno studentato e in realtà era nata come una casa privata, una di quelle case d'affitto in cui il proprietario si ritagliava l'ultimo piano, come se fosse una specie di villa sospesa, come vedete qui nella foto, la casa Marmont del 1934. Si vede molto bene questo carattere della ricerca di ponti, di intagliare la sua architettura con un sistema di aperture o anche per esempio sul terrazzo di creare delle pergole, quindi lui immaginava che dovessero crescere le piante, l'erba, l'edera, quindi queste sue architetture lui non immaginava come dei gusci di cemento, ancorché colorati, ma le immaginava come divorate dalle piante. Ogni abitazione scrive anche se piccola sia dotata dunque di terrazzo, abbastanza ampio per un po' di vita all'aperto. All'aperto, dove male che va, c'è un rettangolo azzurro di cielo e come vedete questo l'abbiamo potuto proprio tutti sperimentare. La casa che fosse, diciamo, meglio condensa alle caratteristiche e anche le evoluzioni di questa ricerca di ponti che comincia, diciamo, alla fine degli anni venti, è la casa in viadezza, una casa di appartamenti, di condomini di appartamenti, in cui, diciamo, c'era la stessa abitazione di ponti, che è stata l'ultima casa dove lui è venuta ad abitare, quella dove poi è morto e che era, aveva alle spalle anche il famoso studio di architettura. E la casa di viadezza è quella che si potrebbe definire, sempre prendendo il titolo in prestito a Curzio Malaparte, la casa come me. Questa casa come me che qui vedete nella pianta è un risultato di una approfondita ricerca che Ponti aveva sperimentato negli anni 20 e 30 in maniera, come dire, singolare ed ostinata e anche controcorrente, perché se noi vediamo le piante, per esempio, delle case, non so, mettiamo di Terragni, hanno delle piante, ha un' architettura, diciamo, radicale, corrisponde una pianta abbastanza tradizionale. Le piante di Ponti, invece, cominciano già a dimostrare il grande interesse che lui ha per l'idea che la pianta sia l'imprint di una vita di una famiglia che si svolge all'interno. Quindi, per esempio, la possibilità di avere una grande fascia di, la casa come vedete, quasi divisa orizzontalmente in due metà, in cui la parte preponderante è quella in basso, dove ci sono gli ambienti di accoglienza, quelle che lui c'è, dove le persone e i componenti della famiglia si svegliano di tal mattina, escono dalle proprie camere, si affacciano nella piazza del villaggio. E questa situazione centrale, dove c'è scritto soggiorno, pranzo e ospite, la vedete molto bene riflessa in questa famosissima fotografia, dove si vede Ponti con la moglie Giulia Vimercati, e ci introduce alle caratteristiche di questa casa, un pavimento unico, disegnato per lui da Fausto Melotti, un grandissimo artista che ha lavorato molto con Gio Ponti, un pavimento di ceramica, strisce poste in diagonale, qui corrispondono il disegno del soffitto, e questo ambiente, come vedete, sembra non avere pareti, perché Ponti, interpretando a maniera sua il concetto dello spazio fluido di Mies van der Rohe, applica alla casa alcuni ritrovati tecnici moderni, come queste pareti pieghevoli, che si usavano allora molto, per esempio, nei paesi scandinavi, che avevano il vantaggio di eliminare la parete fissa, e quindi essendo retratti, li potevano consentire, per esempio vedete, in fondo c'è la camera dell'ospite, si può tirare, diciamo, la parete pieghevole e ricavare l'intimità necessaria alla camera, altrimenti si può aprire tutto e si può godere di quello che Ponti dice la caratteristica più bella di una casa, è lo spazio, lo spazio comune. A questa casa, come vedete, a questo spazio comune corrispondono, che qui si vede molto trasformato negli ultimi anni appunto della vita di Ponti, quindi si vedono questi grandi tavoli dove lui appoggiava questi fogli di perspex, Ponti stava, soffriva di cateratta, stava diventando, diciamo, cioè la sua vista era obnubiliata, era visionaria, era come vedere le cose attraverso una sorta di caligine, di nebbia, e lui nel suo inguaribile ottimismo dice, meno male che hanno inventato il perspex e hanno inventato il letter set, cioè il pennarello, il felt pen, perché io, anche se non ci vedo bene, posso continuare a dipingere, a disegnare. Infatti li vedete, questi suoi grandi dipinti disposti sulle pareti, disposti sui tavoli. Cioè la sua casa, la casa come me, è diventato il laboratorio di se stesso. Un altro paradosso della creatività e della vita di Ponti è che l'esempio forse più perfetto e che ancora oggi è miracolosamente intatto e che vale da solo una visita in Venezuela, Caracas, è questa villa che subito venne chiamata una villa fiorentina, cioè una villa italiana costruita per i conigi Armando e Anala Planciart, infatti si chiama la villa Planciart o la Quinta Planciart, su una collina di Caracas, proprio in alto su una collina che si chiama El Serrito, a cui si arriva attraverso una piccola strada molto ripida, si arriva sulla sommità e c'è questo oggetto meraviglioso, quasi volante, sospeso leggermente dal suolo, dove anche, come vedete, la copertura non appoggia le pareti, ma è staccata dalle pareti, perché Ponti vi volle realizzare, e lo poter fare grazie alla generosità e disponibilità di mezzi dei conigi Planciart, vi volle realizzare due sue idee, l'idea dell'architettura come cristallo, che aveva enunciato in un libricino che, diciamo, è il preannuncio del più noto, amato è l'architettura, e l'idea della leggerezza, l'architettura non ha più muri portanti perché ha struttura di cemento e quindi dice il muro, non dovendo più sorreggere, può anche essere sospeso, deve denunciare il suo essere sovrastrutturale. Vedete un modellino di cartone a sinistra e la pianta a destra. Il modellino di cartone suggerì a Ponti l'idea che la casa potesse essere considerata come una farfalla, che si appoggia delicatamente al suolo con delle zampine esili e la chiamò la mariposa. La pianta ci fa vedere come si esprime architettonicamente questa idea che l'architettura deve essere come un cristallo. Cioè l'architettura è pura come un cristallo e quando è pura, è pura come un cristallo, è magica, è chiusa, è esclusiva, è autonoma, incontaminata, incorrotta, assoluta, insomma è definitiva come un cristallo. Rifiuta le forme non finite perché l'architettura comincia e finisce. C'è una polemica di Ponti molto forte contro diciamo l'internazionalismo, soprattutto di derivazione americana. Un grattacielo, lui dice, è un parallelepipedo, comincia e teoricamente non finisce mai perché si potrebbe sempre aggiungere un piano perché non ha una vera chiusura. Si potrebbe sempre ampliare da uno dei due lati perché non ha una vera misura. Ma questa, dice Ponti, non è architettura. L'architettura deve essere un oggetto che si sa dove comincia e si sa dove finisce. E ovviamente la forma del cristallo, che è una forma chiusa ma sfaccettata e quindi diciamo è una forma che riflette la luce, riflette il sole, dà la possibilità all'interno di creare come degli anfratti, delle cavità, delle rifrazioni. La forma del cristallo è la forma ideale. Questa pianta è una maniera caratteristica che ha ponte di disegnare. Se voi ci fate caso, ci sono disegnate delle figure umane, delle persone, c'è sempre la persona al centro della sua architettura. Ci sono degli occhi e da cui dipartono dei lunghi fili prospettici per indicare che da quel punto, per esempio dal punto 10, dove c'è il cosiddetto comedor tropicale, la stanza da pranzo diciamo all'aperto, si possono traguardare gli sguardi attraverso tutta la lunghezza della casa. Quindi la casa è chiusa ma è aperta nel massimo delle direzioni possibili. Prendete la linea 2, 3, 11, 14 e vedete che dall'ingresso laterale si può addirittura guardare fino alla fine dell'architettura. Quindi l'importante è che l'architettura sia chiusa ma apra prospettive all'interno. La Villa Planchard che qui vediamo in uno scorcio dal soggiorno che prospetta verso il giardino e che ha alle spalle un patio che è stato decorato da Fausto Melotti con queste bellissime figure geometriche e piastrelle da lui stesso disegnate e costruite e poi portate in America. La Villa Planchard è un esempio straordinario di architalianità. A sinistra vediamo ancora un'immagine del patio, a destra vediamo ancora un'immagine del living con il cosiddetto comedor tropical. Un grande tavolo di marmo fisso su un piedistallo di marmo e se guardate il pavimento, il pavimento è uno straordinario campionario di tutti i più bei marmi italiani che i ponti volle e fossero trasportati via nave dall'Italia e verso Caracas in Venezuela. Analogamente le sedie, le suppellettili, gli arredi, le opere d'arte, addirittura per esempio i servizi igienici della ideal standard o le grandi impennate delle grandi finestre, era tutto materiale che veniva dall'Italia. Pensate a questa idea folle di questa quantità enorme di materiali anche costruttivi che in un grande cargo si muovono da un porto italiano e attraversano l'oceano, arrivano a Caracas, vengono sbarcati, devono salire con dei camion lungo la collina del Serrito e poi danno luogo a questa stupenda sinfonia dell'italianità. E l'altra caratteristica importante che dobbiamo tenere in mente pensando a Ponti è quest'altra sua frase ricorrente, il sogno della pittura ha sempre accompagnato la mia vita e il gusto per i disegni allusivi e simbolici e i ritratti hanno sempre accompagnato anch'essi la mia vita. E Ponti diciamo come si vede per esempio qui a sinistra c'è l'immagine di una delle migliaia di lettere che lui mandava a tutte le ore del giorno e perfino diciamo il 15 d'agosto o il 25 dicembre, Ponti diciamo era un grafomane incredibile, mandava lettere che mandavano in sollucchero i suoi amici e i suoi clienti come questa per esempio, dove quasi si riprende quel gusto per la poesia visiva che avevano inaugurato i futuristi all'inizio del secolo, cioè la poesia e quindi la grafia che diventa un'espressione estetica e diventa disegno messa stessa a dire che appunto l'arte non comprende barriere. La sua prova più impegnativa come artista e anche più faticosa, impegnativa anche perché faticosa fu l'affresco del grande scalone del palazzo del Boa Padova, un'altra delle sue opere straordinarie che si possono visitare perché soprattutto gli ambienti del rettorato contengono, sono rimasti praticamente intatti e contengono tutti i mobili disegnati da Ponti, tutti i suoi arredi, i colori, le architetture, quindi è un altro esempio di rilancio e rivisitazione di quell'ideale che era stato già tardo ottocentesco, come Richard Wagner aveva lanciato l'idea del Gesamtkunstwerk, l'opera d'arte totale, che poi era stata ripresa anche dagli architetti, gli artisti della secessione, Ponti era un grande ammiratore di Hoffman e se pensiamo a Palais Stocklet per esempio di Hoffman quale maggiore esempio di Gesamtkunstwerk si può immaginare con queste opere di Klimt che sono incastonate nelle pareti. Quindi Ponti credeva molto nel fatto che l'arte non dovesse essere una decorazione ma dovesse entrare in maniera, l'arte e gli artisti dovesse entrare in maniera intrinseca e organica all'interno dell'architettura. A volte anche negli interni e negli arredi come per esempio si mostrano questi due esempi di collaborazione di ponti con Piero Fornasetti, questa sedia un po' come quelle di Villa Planciarte che erano decorate con giornali che si era fatto mandare dall'Argentina, qui invece ci sono delle farfalle e queste pareti armadio che però in realtà sono delle vere pareti, quella di sinistra nasconde una porta come vedete, in cui l'effetto illusionistico dell'arte, dell'uso artistico dei materiali, delle radiche e produce appunto questa idea che in Ponti rimarrà perenne e costante anche nelle ultime opere della vecchiaia, c'è che l'architettura è legata alla illusività, cioè all'idea di creare un'illusione. La maggior parte delle idee di Ponti sono raccolte in Amate d'architettura, un libro bellissimo che fu edito dopo molti sforzi dall'editore genovese Vitali e Ghianda nel 1957 e che riprendeva, come si vede anche dalla copertina, l'architettura è un cristallo del 1947 e per promuovere un grande programma di opere una sola è la via di chi vuole veramente, e cioè la via della decisione, la via del fare e del fare subito. E ritorniamo all'inizio da cui eravamo partiti, l'attivismo lombardo. La religione non ha senso se non si manifesta nelle opere di bene che si possono fare nella vita e tutto l'assistenzialismo, diciamo, di cui la Lombardia, come dire, è una sorta di capofila in Italia, nella lotta alla povertà, nell'assistenza ai ceti più deboli, eccetera, deriva esattamente da questo imperativo che Ponti fa suo e che giustifica la sua operosità. Quindi tutto quello che noi dobbiamo fare per migliorare il mondo, dobbiamo farlo attraverso una scelta che si manifesti nelle cose concrete, quindi non ci si deve isolare, ma al contrario l'artista, l'architetti è una figura sociale e del farlo subito. Farlo subito non significa farlo velocemente, ma farlo nel tempo giusto per, diciamo, quindi non lasciare, come dire, decantare le cose in una sorta di limbo teorico astratto, ma condurle, precipitarle verso l'azione. Ora devo fare una piccolissima interruzione. circa, diciamo, dieci anni dopo la morte di Gio Ponti e il grande scrittore italiano Italo Calvino, che era stato invitato a tenere delle conferenze in America, le Charles Iliott Norton Lectures, le tradurrà in un libro, che uscirà infatti prima in inglese e poi in Italia, si chiamava Six Mimos for the Next Millennium. In italiano credo sia stato chiamato lezioni americane. Quali sono questi Six Mimos, questi sei appunti, no? Queste sei cose da ricordare, questi sei, non so, target da tenere appiccicati sul nostro desktop. O meglio, qual è la più importante, diciamo, di questi sei, queste sei cose da ricordare. Per usare le sue parole, ecco, dice, dedicherò la prima conferenza all'opposizione leggerezza peso e sosterò le ragioni della leggerezza. Ora tenete presente che, soprattutto nel contesto, diciamo, molto ideologizzato degli anni 70, il tema della leggerezza era un tema molto svalutato e, come si dice di una persona, è una persona leggera, non era un complimento, ma al contrario era sinonimo di superficialità. E tenete presente che Ponti è stato sempre accusato di leggerezza in tutto questo periodo della sua vita. Ema, Ponti è un decorativo, una persona superficiale, quindi lavora sulle superfici, ma non ha serietà, non ha la teoria. E l'architettura, pensiamo per esempio alla grande fortuna che ha avuto un'altra figura importante del panorama lombardo italiano, Aldo Rossi, no? L'architettura era considerata un'arte e, diciamo, fondata sulla pesantezza della teoria e dell'ideologia. Qui invece Calvino inaspettatamente sta ribaltando, in una sorta di diabolico braccio di ferro, sta ribaltando il binomio. Sosterrò le ragioni della leggerezza. E poi lo spiega. Ovviamente io ho riassunto, diciamo, nella maniera migliore possibile. In certi momenti, dice, mi sembrava che il mondo stesse diventando tutto di pietra. E com'è vero questo. Dopo gli anni di piombo, il mondo diventa di pietra. Una lenta pietrificazione, più o meno avanzata, a seconda delle persone e dei luoghi, ma che non risparmiava tuttavia nessun aspetto della vita. Era come se nessuno potesse sfuggire allo sguardo inesorabile della medusa. Bellissima questa idea poetica. Medusa, come sapete, pietrifica chi l'affronta. E l'unico che potè sconfiggere medusa è stato Perseo, dotato di ali per volare, quindi un essere leggero, una sorta di angelo laico, il quale è, diciamo, armato di un providenziale scudo, gira intorno alla medusa e la trafigge perché lui si cela al suo sguardo e grazie alla leggerezza e alla velocità uccide la medusa. È libera l'umanità dalla pietrificazione. Se volessi scegliere, dice sempre Calvino, un simbolo augurale per affacciarsi al nuovo millennio, sceglierei questo. L'agile salto improvviso del poeta filosofo che si solleva sulla pesantezza del mondo, dimostrando che la sua gravità contiene il segreto della leggerezza, mentre quella che molti credono essere la vitalità dei tempi, rumorosa, aggressiva, scalpitante e rombante, appartiene al regno della morte, come un cimitero di automobili arrugginite. Qui vediamo le figure di angeli che Ponte aveva disegnato negli anni venti sui vasi dei cerginori. La figura dell'angelo è una figura dell'iconografia pontiana fortissima e le ultime figure degli angeli da lui disegnate, ritagliate e applicate alle finestre della casa di Viadezza. L'angelo, come da trabata aveva scelto nella sua prima architettura costruita nel 1926, poco distante dalla famosa villa di Le Corbusier, lui costruisce per gli amici Bouillet una villa che suggerirà loro di chiamare l'ange volant, l'angelo che vole. Infatti, come vedete, disegna anche il simbolo di un angelo che vole porta a questa casa tra le mani come se fosse una sorta di torta inaugurale. E lui amava anche questa frase di Cocteau, dice in Amata l'architettura, dice Cocteau, a proposito dell'angelo custode, custodiamo l'angelo che è in noi. Cioè l'angelo custode è in noi, quindi custodire l'angelo in noi significa custodire l'idea della leggerezza. Uno degli ultimi progetti di Ceoponti, che è veramente molto affascinante nella sua visionarietà, è un progetto che lui, incaricato da nessuno, decide a un certo punto della sua vita di dedicare, donare alla città di Los Angeles. E quindi lui dice, scrive nella lettera a Charles R. Ray Imes, dice, ho pensato quale migliore figura per una cattedrale da costruire a Los Angeles, la città degli angeli, che l'angelo stesso. Quindi lui immagina un angelo, lo vedete qui nella lettera a disegno, è poi realizzato in una scultura. Quindi un grande angelo che ha la pancia bucata, secondo questa figura caratteristica dell'esagono, e uno di questi maggiore è la porta attraverso la quale si entra. E d'altra parte, Ponti, molto spiritosamente, quando parla del Pirelli, la sua opera più famosa, dice il Pirelli, è un angelo con l'aureola. L'aureola è il soffitto sospeso che mette in evidenza la bellissima struttura disegnata da Pierluigi Nervi, a cui Ponti volle dare onore, lasciando libero, come vedete anche da questa immagine, tutto l'ultimo piano con una grande vetrata, che oggi si può visitare, è una sorta di observatory deck, anche questa è una visita che vi raccomando di fare, molto istruttiva e soprattutto molto energizzante. Ovviamente Ponti non riuscì a costruire la cattedrale di Los Angeles, però costruì la cattedrale di Taranto, adesso poi la vedremo meglio, che è concepita un po' come quella di Los Angeles, con un corpo tutto traforato da queste figure esagonali, la stessa figura esagonale che ritorna per esempio nella cappella dell'ospedale San Carlo, dove si vedono appunto l'annunciazione dell'angelo con la Vergine Maria. La concattedrale, Gran Madre di Dio di Taranto, è un capolavoro di Ponti che è stato a lungo misconosciuto, ci è voluto del tempo perché se ne riscoprisse il valore come di un gioiello o di un diavante grezzo abbandonato al suolo che poi improvvisamente se tu lo ripulisci comincia a brillare e ne scopri l'esattezza, la perfezione, la bellezza, la poesia e soprattutto la verità. Un edificio straordinario, visionario, che è composto di una chiesa, di due chiese, una inferiore e una superiore, c'è un dislivello. Nella foto a sinistra vediamo la scalinata che porta l'accesso alla chiesa superiore, che come vedete è esattamente, è bassa, è quasi un terzo di tutto l'edificio, perché poi in realtà Ponti sviluppa al centro un motivo come un grande retablo di una struttura tutta quanta traforata che contiene la torre campanaria anche all'interno. Lui dice ho fatto una trappola per gli angeli e poi ha voluto una specie d'acqua davanti perché soprattutto di notte quando illuminata dall'interno si specchiasse in questo equilibrio quasi come per miracolo uno che diventa due, ma sono due che in realtà sono il riflesso l'uno dell'altro ed è un segnale anche questo profetico perché nel caos diciamo del Taranto, dello sprawl successivo all'edificazione della cattedrale, l'unico segno che si vede da molto lontano, quasi come fosse il punto focale di un bulvare affollatissimo di macchine e questa grande vela e quindi questo dimostra anche la sensibilità e l'intuizione che Ponti aveva dell'architettura come un fatto urbano. Anche questo è un tema interessante, si è sempre pensato invece Ponti come disegnatore di oggetti, invece Ponti aveva in testa una sua idea chiara di città. Quando il grande architetto, il grandissimo amico di Ponti Luigi Moretti lo andò a trovare negli anni settanta, quando era molto anziano, scrisse questa memoria, dice Ponti ti parla dei suoi progetti luministici per la D. Bienkorf in Olanda, i grandi magazzini a Eindhoven, dei suoi ultimi edifici, interamente rivestiti di ceramiche rigate e splendenti, poste a sfaccettature, dei suoi sognati grattacieli, dei suoi prismi di vetro giusto apposti, come formazioni cristalline. Egli non vede che materia luminosa e questo credo sia ammirevole in un uomo che ha raggiunto l'età dei grandi saggi. Ponti è molto anziano, eppure come dice Moretti ha raggiunto l'età dei grandi saggi. È come se paradossalmente la visione diciamo annebbiata dalla cataratta fosse diventata più nitida, più visionaria, più immaginifica, come per esempio in questo progetto, dove lui deve disegnare una sede per i grandi magazzini. I grandi magazzini sono delle scatole chiuse, dove non deve entrare la luce, e di solito infatti sono, come dire, quasi tutti quanti uguali, per dare anche la possibilità poi agli allestitori di cambiare gli interni. Ponti, anticipando un'idea dell'architettura come valore di superficie, che oggi è di gran voga, pensa alla sua architettura come una sorta di encrochers, di screens, di schermi, di paraventi, che hanno una dimensione molto, come dire, razionale e scandita geometricamente, che seguono quindi la trama dei pilastri, ma hanno una grandissima libertà inventiva. Ognuna di queste fasce verticali è intagliata con dei segni diversi e l'omogeneità è ottenuta attraverso l'utilizzo di un unico materiale di investimento, che è il materiale che lui ha preferito, diciamo, in tutta la sua vita, soprattutto negli ultimi anni, il materiale ceramico. Piastrelle che lui stesso disegnava in forma di diamante, anche il nostro Politecnico, se pensato al Trifoglio, all'edificio della nave, sono fatte queste piastrelle a forma di diamante, sul disegno appunto di Gio Ponti Medesimo. Ed è lo stesso che utilizza anche per quest'altro incredibile lavoro, il Denver Art Museum a Denver, Colorado. Anche questo è un'impresa diciamo straordinaria. Negli anni 70 un architetto italiano che viene chiamato in America a costruire un museo. Un museo che si svolge come una sorta di nastro o di origami, vedete queste facciate tutte spezzettate, qui c'è solo un dettaglio, che sono interamente rivestite di queste piastrelle, perché le dice l'arte è un tesoro e queste mura sottili ma gelose la proteggono. Quindi le mura sono sottili perché come lui aveva detto viviamo nell'epoca della leggerezza e il muro non è più portante. Però allo stesso tempo sono gelose di custodire l'arte e quindi si mostrano poco. Allora non ci sono finestre ma ci sono intagli, ci sono dei tranelli come lui dice per catturare la luce. Un esempio anche questo interessantissimo di affrontare il tema della grande dimensione attraverso il tema della varietà. Qui è una fotografia molto particolare di un edificio anche questo non conosciutissimo ma è un autentico copolavoro, porto sempre i miei studenti a vederlo in l'edificio delle assicurazioni Montedoria, Palazzo Montedoria in piazzale Cagliazzo, quindi vicino anche da noi, che è riflesso nella finestra di vetro di un palazzo che sta di fronte. Quindi c'è questo gioco della riflessione. Perché dice Ponte il gioco dell'architettura è di superficie e non più di volumi. E nei riflessi della ceramica, magici, non statici, nel loro apparire e scomparire secondo l'incidenza dello sguardo. Ponte aveva calcolato che appunto nelle vie, nelle città fumose come Milano quando c'era lo smog con vie strette, facciate lucenti illuminate dal cielo, come questo meraviglioso edificio che lui ha costruito per le assicurazioni INA in via San Paolo, in realtà è un edificio che affaccia su due strade, molto complesso, che segue la stessa logica del Denver Art Museum. Questa lunga facciata ripete, diciamo, dei moduli che sono legati alla struttura, ma li ripete verticalmente e orizzontalmente, cioè se voi vedete, diciamo, seguite come dire un andamento orizzontale, la riga e l'andamento verticale, la colonna, vedrete che in ciascuno di questi segmenti delimitati da queste sottili diciamo sporgenze, non c'è mai la stessa composizione, cioè c'è sempre lo stesso tipo di finestra, un modulo e mezzo modulo, che è variato innumerevoli volte in maniera da evitare la monotonia, che per ponti è un peccato mortale. Ecco, qui ci sono dei dettagli che vi fanno vedere appunto l'uso, cioè innanzitutto diciamo questa idea di ponti che la facciata deve essere sottile, come un foglio di carta, perché siamo nell'epoca del cemento armato e quindi il muro non è più portante. Per accentuare questa sottigliezza, le finestre non devono aggettare fuori né creare delle cessi in maniera da creare delle ombre o delle discontinuità, ma sono d'alluminio e a filo del muro, quindi sono esattamente complenari, sono finestre a filo e facciate leggere. L'elemento di unificazione in questa grande diversificazione delle facciate sono invece le piastrelle e che ovviamente accolgono la luce del sole durante l'arco della giornata con una diversa incidenza, per cui creano dei giochi meravigliosi di ombre, un po' si vede nella foto in atto a destra. E qui invece è appunto l'edificio, il Palazzo Montedoria, in Pezzale Cagliazzo e Viale Andrea Doria e sul fondo si vede la stazione centrale di Milano dove svetta in distanza il bellissimo Pirelli. Ecco come vedete Ponti deve creare un edificio commerciale per uffici, è riuscito a scomporre la massa e articolandola in maniera sottile, quella maniera che attrae inevitabilmente tutti gli architetti stranieri da Caruso, San John per esempio, gli architetti di Zurico, da Peter Mercury e altri eccetera che vengono a Milano a vedere queste architetture diciamo incredibili perché come se Ponti avesse affrontato diciamo da pioniere un tema che oggi è diventato centrale e che purtroppo la pigrizia dei nostri architetti anche dei giovani architetti come dire lascia isteridire in formule un po' sciocche e un po' anodine e molto ripetitive. Un piccolo dettaglio della composizione di Palazzo Montedoria, vedete per esempio l'effetto che gioca questa pelle come una squame sottili e allo stesso tempo questa precisione severa nella composizione della geometria, le due finestre superiori nella parte di destra per esempio non sono a filo con la finestra sottostante, è una composizione che Ponti chiamava quasi tipografica, era come l'impaginazione di un foglio di carta o di una pagina di una rivista come Domus che lui stesso impaginava. Uno degli ultimi edifici di Ponti e vi prego di andarlo a vedere è in Viale Famagosta, angolo via San Vigilio, andatelo a vedere prima che qualche sciagurato di real estate lo faccia scomparire come si vuole fare con l'ex edificio della RAS in via Santa Sofia, è un edificio straordinario, un edificio che contiene insieme una profezia. L'edificio di sei ponti deve apparire girandogli attorno un paesaggio, l'idea che noi camminiamo intorno a un edificio che quindi l'edificio non è una statua ma è un paesaggio, cioè vale a dire che quando ti gira attorno mi offre degli scorci diversi, uno spettacolo diverso dai suoi parecchi punti di vista. L'edificio moderno con plurime prospettive deve rivelarsi in diversi aspetti allo sguardo di chi vi gira attorno. Questo edificio è come l'INA, come il palazzo dell'INA in via San Paolo, come la Monte d'Orio, come gli uffici della RAS, un palazzo per una società di assicurazione, in cui c'è una parte bassa, quella che vedete lungo la strada via San Vigilio che contiene degli uffici del personale e la guardiania e la mensa e poi tutto il grande sviluppo dell'edificio con le stanze degli impiegati e ci ritorneremo fra breve. Mi piaceva riassumere in questa slide, cioè nel 1977, quindi due anni prima di morire, Ponti scrive, avendo io anni 90 meno 4, tutto quello che faccio e scrivo è testamentario, cioè come se fosse un testamento e io credo che quell'edificio di Viale Famagosta, che pochi, pochi, pochi conoscono, sia davvero il testamento di Ponti che si accompagna alla profezia della città verde. L'ultimo grande elemento, diciamo, a cui vorrei associare nel vostro ricordo di questa sera, la figura di Gio Ponti e che ci richiama anche questo all'attualità. L'edificio, per le assicurazioni Savoia, ha questa pianta qui a sinistra, incredibile. Avete mai visto una pianta come questa, anche disegnata da nostri bravi architetti contemporanei? C'è un edificio che qualunque persona avrebbe fatto come un rettangolo, lui l'ha sdoppiato e ha distrutto ogni idea di rettangolarità. C'è praticamente queste linee spezzettata, quindi proprio la tecnica dell'origami che ha usato anche a Denver, fanno sì che l'edificio diventi un grande paesaggio. Diventa come uno schermo dove ogni singolo pezzettino è una facciatina in sé. Ma poi questo edificio, se vedete nella pianta a destra, sta a delimitare il bordo urbano di una invenzione paesaggistica straordinaria, che lui chiama il Bosco Lombardo. Cioè, bisogna costruirci un parcheggio, allora Ponte dice facciamo il parcheggio sotterraneo e sopra costruiamo un paesaggio Lombardo, con le piccole colline e soprattutto, diciamo, studiando la vegetazione, perché le dice come devono essere gli edifici che dobbiamo costruire. Deve essere un nuovo edificio, qui è la sua testamento per la Nuova Milano, ma anche la sua profezia, deve essere un accipelago di isole, di alberi ed erbe e fiori, con un'architettura nel mezzo. Mio sogno terrestre per il sogno celeste di alberi che faranno aerea corona all'architettura. Quindi Ponte, e guardate che parlare in questi temi negli anni 70 è un discorso, diciamo, veramente fuori dalle righe, perché chi parlava di ecologia negli anni 70 è un discorso, diciamo, per elite e certamente non era un discorso che incideva nel campo dell'architettura. Invece Ponte lo impone, dice che la sua profezia per Milano è che si dovranno fare degli edifici così, si dovranno costruire degli accipelaghi, dove ci sia l'architettura, ma anche alberi, erbe e fiori. E d'altra parte, Ponti, e ritorniamo di da dove eravamo partiti, nelle sue domus milanesi, e qui ne vediamo un esempio in via Ajak, aveva scritto che dall'interno la casa italiana riesce all'aperto con i suoi portici e le sue terrazze, con le pergole e le verande, con le loggi, i balconi, gli altani, i belvederi, invenzioni tutte confortevolissime per l'abitare. E aveva sostenuto che questi elementi che servono per lo stare fuori dovessero essere abitati con il verde. Lui aveva incoraggiato, diciamo, gli abitanti delle sue architetture, tant'è vero che nella casa di via del Caravaggio, in particolare questa, la domus serena, lui aveva raggruppato tutti i balconi a formare due colonne verticali e aveva costruito, diciamo, tra una colonna e l'altra, una struttura, diciamo, di vasi che erano dati in dotazione all'appartamento, quindi già inseriti dentro, perché lui diceva bisogna che ciascuno, come dire, si faccia carico della propria porzione di verde. Amabilmente con il suo fotografo Casati sosteneva anche non c'è nessuna cattiva architettura che non possa diventare buona se mascherata dal verde. Ora vedete un attimo, questa è una foto che risale, diciamo, a 20 anni fa, più o meno, 15 anni fa, questa che è a destra, è una foto che ha scattato Filippo Romano, di come è la domus serena adesso. Che ne dite, è un bosco verticale questo, non so come volete chiamarlo, è stato pensato nel 1933. Ma ancora in quegli anni, Ponti aveva estesa la sua idea del verde sostenibile all'intera città. Un giardino, la natura, sono il complemento ideale dell'architettura. In un progetto per la sistemazione, diciamo, dell'ex Scalo Sempione, quindi nell'area, grosso modo, di quella che è oggi l'area di San Siro, un progetto che lui affronta per la prima volta nel 1938 e poi riprende circa dieci anni dopo, quindi in un regime diverso, quindi vedete la pianta, lui immagina che praticamente questo quartiere sia un quartiere fatto di verde e dentro questo verde ci sono gli edifici, come indicato anche da queste prospettive disegnate a schizzo, quindi ognuna di questi elementi, che belli gli schizzi rispetto ai render che si fanno oggi, doveva mostrare il rapporto tra il singolo elemento architettonico e la natura che la circonda, quasi che fosse una città giardino. E infatti Ponti chiama questo progetto il fiume verde. Ce ne eravamo dimenticati tutti, ci siamo persi indietro ai raggi verdi, ma nessuno si è ricordato che Geoponti nel 1948 disegna un progetto di espansione della nuova città di Milano, la Milano moderna, Milano della ricostruzione, chiamandolo il fiume verde. Quindi è un'idea che è passata, come dire, inosservata perché sembrava una semplice utopia ed è invece un'idea che oggi, come dire, sottoscriveremo tutti per la grande innovazione e la bellissima risposta che offre i problemi del nostro tempo. Volevo concludere con un progetto che però non è stato realizzato, che lui fa per un suo amico committente cinese, Daniel Ku, un progetto di una villa da costruire a Marin County San Rafael in San Francisco, dove si vede, anche questo è un disegno che mi ha sempre molto affascinato, come può il disegno di una casa essere come un cervello umano, spuntare in mezzo ai peli, ecco, di questa specie di ciclope, questo terzo occhio che diventa una casa e questa casa che è protetta da un soffitto, da un tetto come se fosse una foglia, infatti ci sarà un altro progetto che si chiama uno scarabèo sotto la foglia, è immaginato da Ponti come un abbandono definitivo di ogni forma rettangolare, è una maniera, come dire, di aprire a quello che si può genericamente definire un organicismo, quasi che l'architettura nel suo sforzo, diciamo, di incontrare la natura, avessi incontrato la natura umana, cioè la natura del corpo umano e quindi ne avesse assunto proprio i modi, la fisionomia, la fisiologia organica di un cervello, ma poteva essere anche di un cuore, trasferendovi le funzioni dell'abitare. E io credo che questa, in particolare questa immagine con i suoi colori, con le sue idee, con questa insistenza, queste linee rosse che vedete, insistenza sui flussi, altro termine che Ponti non ha mai adoperato, ma che ovviamente ha anticipato, no? Oggi si parliamo sempre di flussi, sia proprio forse la sintesi perfetta per terminare questa lezione nell'indicare quella che è stata la sua personalità. Una personalità straordinaria, la sua arcitalianità è consistita in questo sforzo e in questa rincorsa incredibile, inesauribile, senza reticenze, senza limiti, nel tentativo di far sì che l'architettura abbracciasse la vita fino in fondo. Grazie.